Musica Qualsiasi cosa ragazzi lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdervi niente dei video futuri Controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa Soprattutto ragazzi cliccate sulla campanella ozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri Buona visione Allora, hai un piano? Una volta dentro i tuoi uomini possono sconfiggere le pattuglie del campo Sì, ma... Soprattutto se le pattuglie vengono colte di sorpresa Ma certo Allora dobbiamo trovare alcune armature francesi All'alba entreremo camminando Ah, eh, eh, fio auditore Sei davvero un grand'uomo Ah, ah, magnifico Vado a cercare le armature Le prenderanno i miei dai cadaveri Poi partiremo da nord Per non destare sospetti Ah, Ezio Ricordati di ucciderli senza combattere Le armature devono essere pulite Io! Guardia! Ferma! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Asseminando Presto ragazzi La Adesso 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 Adesso